Canto ottavo, libro primo, ottava, quaranta tre. Ma non fo questa cosa così presta che, come io fui partita dal castello la cruda stella, melando gran festa a Marchin, va davanti in viso fello e gli appresenta l'una e l'altra testa dei figli che io servai dentro a un piatello, benché per morte ciascuna era trista, pur li coniobbe il padre in prima vista. La damisella aveva il crin di sciolto, la faccia altiera e la mente sicure, tra lui disse l'uno e l'altro volto sono dei tuoi figli, dagli sepoltura, il resto hai tu nel tuo ventre sepolto, tu il divorasti, non aver più cura. Ora a gran pena il falso traditor che crudeltà combatte con amore, l'oltraggio smisurato ben lo invita a far di quella dama crudo strazio, dall'altra parte la faccia fiorita e lo affocato amor gli dava impazio. Delibere a vendicarsi alla finita, ma qual vendetta lo potria far sazio, che, pensando al suo oltraggio in veritade, non vera pena in tal crudeltade. Il corpo di Grifon fece portare, che, così ucciso, ancor giacea nel piano. Fece la dama quel corpo legare, viso con viso stretto e mano a mano, così con lei poi se ebbe a dilettare. Or fu piacer già mai tant'inumano? Grampuza, mena il corpo tutta fiata, la damisella a quel stava legata. Lega il cadavere. In questo tempo venne il re de Orgagna, et io con esso con molta brigata. Ma come fummo visti alla campagna, marchì la bella stella ebbe scanata. Ne ancor per questo da poi la sparagna, ma usava con lei morta tutta fiata. Credo io che il fece sol per darse vanto che altro om non fosse scellerato tanto. Noi qui vennemo e con cruda battaglia la forte rocca al fin fu pigliata. E Marchin preso di ardente tenaglia fu sua persona tutta lacerata, chi rompe le sue membra e chi le taglia. La bella dama poi fu sotterrata, entra un sepolcro adorno, per ragione posto fu seco il suo caro Grifone. Il re de Orgagna poi se ne fu andato, et io rimasi in questa rocca oscura. Era l'ottavo mese già passato, quando sentimmo in quella sepoltura un grido tanto orribile e spietato, che io non vuol dire che gli altri abbiano paura, ma tre giganti ne fu spaventati che il re de Orgagna meco avea lasciati. Un d'essi, alquanto più di core ardito, volse la sepoltura un poco aprire, ma benne fu poi presto repentito. Però che un mostro, che non puote uscire pur for gettò una branca, età il gremito, in poco d'ora lo fece morire. Stracciollo in pezzi e trasse il dentro, possa la carne devorò con tutte l'ossa. Non si trovò più om tanto sicuro che dentro a quella chiesia voglia entrare. Cinger poi la fecio d'un forte muro, quello sepolcro a ingegno di serrare. Uscì in un mostro contrafatto e oscuro, tanto che alcun non gli ardisce a guardare, la orribile forma sua non te descrivo, perché sarai da lui di vita privo. Noi poi osservamo così fatta usanza che ciascun giorno qualcuno è pigliato e lo gettamo dentro a quella stanza perché la besta l'abbia divorato. Ma tanto ne pigliamo che ne avanza, alcun che se scanna, alcun viene impiccato, squartan si vivi, ancora alcuna fiata come veder potesti in sulla entrata. Poiché l'ausanza cruda e smisurata fu per Ranaldo pienamente intesa, lo veribili cagione scellerata che fia la bestia a chi non va al difesa, rivolta a quella vecchia dispietata, disse, «Dè, madre, non mi far contesa, concedime per Dio che dentro vada, armato come io sono e con la spada!» Rise la vecchia e disse, «O pur ti vaglia, quante arme voi ti lascerò portare, che il mostro con suo dente il ferro taglia, né contro le unge sue se pote armare, a te conviene morir, non far battaglia, che la sua pelle non si può tagliare, ma per fare il tuo peggio io son contenta, perché la bestia più l'ho armato stenta. Siccome apparve il giorno sollucente, Ranaldo dentro al muro è giù calato e fu una porta alciata incontinente, esce il mostro diverso e sfigurato, si forte batte l'uno e l'altro dente che ciascun sopra il muro è spaventato, né di star tanto ad alto si assicura, altri si asconde e fugge per paura. Solo è Ranaldo lui senza spavento, armato è tutto ed in mano a Fusberta, ma credo io che a voi tutti sia in talento di quel mostro sapere la forma aperta, ciò che abbiati, il suo cominciamento, fiello il demonio, questa è cosa certa, del seme de Marchin che in corpo porta quella donzella che da lui fu morta. Egli era più che un bove di grandezza, il muso avea proprio di serpente sei palmi, aveva la bocca di longezza, ben mezzo palmo e lungo ciascun dente, la fronte a del cingiale, in tal fierezza che non si può guardarla per niente, di ciascuna tempia usciva un corno che muove a suo piacer e volge intorno. Ciascun corno taglia come spada, mugia con voce piena di terrore, la pelle a verde e gialla e variata di negro e bianco e di rosso colore, aveva la barba sempre insanguinata, occhi di fuoco e guardo traditore, la mano addomo ed armata deongione, maggiore che quel de orso e de leone, né lunge e dente avea cotanta possa che piastra o maglia non li può durare, e la pelle si dura e tanto grossa che nulla cosa la potria tagliare, questa bestia feroce ora è semmossa e va con furia Ranaldo a trovare su due pierritta con la bocca aperta, mena Ranaldo un colpo con Fusberta, e proprio a mezzo il muso l'ebbe colta, or par di fuoco la bestia tirata, e con più furia Ranaldo rivolta con la mano alta tira una zampata. Troppo non gionse avanti quella volta, ma quanta maglia prese ebbe stracciata, tanto avea duro il dispietato ungione, sino alla carne disarmò il barone. Or per questo Ranaldo non resta, benché abbia il peggio pur non si spaventa, tira due mani al dritto della testa, quella bestia crudel par che non senta. Anci, a ogni colpo mena più tempesta, salta d'intorno, neggiomai si allenta, orde una zampa ora dell'altra mena con tal prestezza che si vede appena. In quattro parte è già il baron ferito, ma non ha il mondo così fatto core, vede si morto e non è sbigottito, perde il suo sangue e cresce il suo furore. Lui certamente aveva preso il partito che al disperato caso era migliore, però che, se non fa il mostro perire, pur lì di fame li conviene morire. Già si faceva il giorno alquanto scuro e dura la battaglia tutta fiata, Ranaldo si è accostato all'alto muro, il sangue ha perso e la lena è mancata, e bene del morire certo e sicuro, ma mena pur gran colpi della spada li fu sberta. Vero è che il sangue al mostro non ha mosso, ma fracassato li ha la carne e l'osso. Or se il destina in tutto distordire mena un gran colpo quel baron soprano, la mala bestia il brando ebbe a gremire. Or che deve far il sir de monte albano? Difender non si può, né può fuggire, perché fu sberta li è tolta di mano. Ma poi vi dirò come andò il fatto, in questo canto più di lui non tratto. Grazie. 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 Grazie.